e mi sono addormentata quindi aspettate che vi sistemo un po' si più o meno comunque vabbè volevo farvi vedere che cosa mi è arrivato da BioVeganShop sapete che io ordino tantissimo da lì e mi piace molto come sito e anche perché si può pagare con il bonifico bancario anche in contrassegno però mi trovo meglio col bonifico bancario perché così almeno non devo avere i contanti i soldi sempre dietro quindi so che comunque io ho già pagato mi arriva il pacco e tanti saluti in più hanno un servizio buono forse ho beccato il corriere giusto perché di solito Bartolini non è che sia proprio così fantastico però sono veloci e ho il corriere che mi chiama spesso cioè nel senso quando sta per arrivare mi dice guarda che tra 10 minuti e un quarto d'ora io sono lì tu sei a casa altrimenti è capitato due volte che è venuto a recuperarmi in giro in modo che così almeno anche lui finisce le sue consegne e io non devo diventare matta a cercarmi il pacco ecco quindi fantastico in più se voi vi iscrivete ve lo dico tutte le volte avete 50 euro di buono da spendere non so con che criterio però loro ve lo spiegano ve li dividono in vari vostri acquisti per esempio adesso io avevo superato di 25 26 euro quindi avevo un euro e 90 le spese di spedizione e loro mi hanno fatto un euro e 20 all'incirca di sconto quindi mi sono venute le spese di spedizione a una miseria è ovvio che più l'ordine è alto e più c'è lo sconto diciamo così e in più poi ho iniziato anche io questa campagna se voi invitate anche dei vostri amici questi vostri amici acquistano loro hanno diritto degli sconti voi accumulate i punti e avete diritto anche a degli altri sconti in più appunto ci sono questi punti che ogni acquisto vengono accumulati li accumulate poi non so se avete degli ordini in omaggio non lo so comunque ecco tipo le tessere per intenderci del supermercato comunque bando alle cianci ho tirato giù i prezzi perché poi vi mandano a ripilogo anche per email sono molto corretti quindi mi trovo benissimo e hanno ottimi prodotti spesso hanno queste settimane dove ci sono gli sconti adesso è appena toccato la settimana della subioetic o etic che c'erano gli sconti forse del 15% non lo so comunque era tutto scontato tutto dal fondotinta infatti volevo prendermi di nuovo l'acqua di tinta però ne ho talmente tanti da finire che ho preferito a lasciar stare comunque c'era tutto tutto in offerta e ne ho approfittato allora ho preso giù due gel doccia che volevo provarli che non li ho mai provati di questa marca qua sono 300 ml questo è verbena e limone mentre il mio preferito che penso che sicuramente lo ordinerò ancora giusto per la profumazione scusate che spengo un attimo la sveglia ok giusto per la profumazione è questo qui che è il gusto di airgun e fiori d'arancio io tutte le volte lo annuso perché è una roba fantastica cioè questi fiori d'arancio sono veramente fantastici comunque qua dice senza solfati e parabeni è garantito bio sentite sapone né colorante scusate ma è fatto made in francia il francese non lo so quindi non riesco molto a tradurvelo comunque è certificato e ha la certificazione non ICEA ma LEA tutti i due 4,08 euro a ciascuno comunque sono 300 ml non costa pochissimo come marca però questo qua il fiori d'arancio è una bomba devo rispostarmi da questa location perché ho visto che qua la luce è molto molto pessima faccio sempre di questi video così al buio poi ho preso di nuovo cosa che ho sbagliato a ordinare non ho capito perché cosa è successo perché ne ho già uno così ancora da utilizzare è il latte detergente della Sobio all'aloe quello con il dispenser il push insomma e non ho capito perché l'ho ordinato secondo me volevo ordinare un altro prodotto invece poi alla fine per sbaglio ho inserito questo qua nel carrello perché ne ho ancora uno da cominciare quindi non so penso che avrò latte detergente per tuttora la mia vita sono 500 ml a 7,57 euro adesso non so all'OVS quanto costa perché so che lo vendono anche lì comunque è andata così ho sbagliato volevo ordinare qualcos'altro quindi boh poi ho preso questo qui che è idroaloe vera purificante 3 in 1 che è un detergente almeno così c'era scritto elimina l'impurità l'eccesso di sebo e il trucco è sfoliante ed è mattificante e riequilibrante da usare allora vediamo applicare sto cercando di tradurre applicare sulla faccia umida si può applicare anche come maschera una o due volte a settimana ingredienti di origine biologica e naturali quindi ecco vedrò come funziona questi sono perché tradurre è un po' anche difficile 150 ml per 6 euro e 46 poi ho preso due campioncini da provare costano 1 euro e 50 della officina umbra non li ho mai mai visti mai provati allora questo è il bagno dolce a bio alpino silvestre con olio essenziale costicchia perché gli inci io non li guardo neanche perché comunque mi fido questo flaconcino che non c'è neanche scritto quanti ml costi comunque costa 1 euro e 50 mamma che buono sembra di essere in aromaterapia comunque è piccolino vedete 1 euro e 50 io ho preso anche il bagno doccia bio amamelis e menta pensavo fosse un detergente intimo io mi ricordavo di averlo ordinato addirittura comunque non lo so ho fatto un casino con questo ordine veramente perché era sera tardi sembrava che dovesse finire la promozione invece poi l'hanno prolungata quindi ero di corsa di corsa e ho buttato dentro poi ho tirato via e probabilmente ho tirato via cose che effettivamente mi servivano e ho lasciato dentro cose che non comunque vabbè questo per andare in piscina è comodo la menta è amamelis la menta è fantastica si sente un sacco e anche questo 1 euro e 50 poi ho preso che era in offerta l'olio essenziale di eucalipto a 4 euro e 34 100% biologico sono 15 ml lo uso per nel diffusore di aromico l'elettrico insomma perché c'era scritto che questo qua aiutava ad aprire le vie respiratorie e questo è stato il mio acquisto poi mi hanno regalato dentro a questa confezione cina qua la confezione è carina sicuramente la riciclerò però devo dire che cioè si sono proprio sprecati mi hanno lasciato solo 3 campioncini vabbè cioè comunque faccio sempre spesso molto più spesso ordini per da loro e vabbè tranqui comunque va bene così sempre dell'asso bio idra aloe vera soin nutrito reparatore questa qui rosa non ho la più valida idea comunque la metterò di notte poi della jonzac acqua termale crema purificante e mattificante e poi mi hanno regalato della eco cosmetic la protezione 45 la protezione solare dice per bambini e baby e kids però ovviamente me la metterò io magari tipo il primo giorno sui nei ecco questa qui non si vede un tubo vedete che c'è scritto sopra eco comunque 45 io non l'ho mai vista la protezione 45 quindi mia è nuova e niente la proverò però voglio dire io quando mi sono vista la scatolina con scritto grazie ho detto wow chissà che cosa mi hanno regalato invece un tubo ci sono rimasta un po' male comunque ecco la scatola la riciclo magari vedo di tirare fuori di tirare via non si tira via no non si tira via comunque ecco questo è quanto questo è mio ordine stufa c'è un tempo io non riesco a capire perché la mattina c'è il sole e tutti i pomeriggi qua piove ma non ne posso più vabbè comunque questo è quanto io vado al lavoro mi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao